ciao ragazzi ho scannerizzato il QR code che hanno trovato dei ragazzi girando sul nuovo dlc del Grinell di Assetto Corsa Competizione allora siccome è uscito ieri spero non sia un pesce d'aprile perché sarebbe veramente architettato in modo mostruoso però guardate cosa esce Assetto Corsa Evo 2024 che lascia presagire che quindi Assetto Corsa 2 si chiamerà Evo e ha detto di Massalutto dalle sue dichiarazioni non sarà uno spin off di Assetto Corsa ma bensì un simulatore molto evoluto quindi le attese sono altissime ora ripeto prima aprile era ieri il teaser è uscito ieri il QR code insomma via di ripiombo ragazzi fa più figo Assetto Corsa Evo che Assetto Corsa 2 effettivamente comunque da quello che ho sentito dire probabilmente quest'estate sempre se non è uno scherzo perché la newsletter non funziona non lo so vediamo aspettiamo notizie più ufficiali in merito a questa notizia qua da quello che ho sentito quindi probabilmente potrebbe essere già quest'estate in Irliaccess è un qualcosa di veramente evoluto speriamo che ritracci quello che è stato fatto con il vecchio Assetto Corsa uscito nel 2014 ragazzi con questa news così che non posso dare troppo conferma però sono comunque molto entusiasta di queste cose qua o se uno scherzo l'hanno fatto benissimo e faccio i complimenti se non lo è comunque un'ottima e bellissima sorpresa quindi io vi lascio con il teaser di 19 secondi e vi lascio giudicare a voi quindi lasciate un commento qui sotto e ditemi che cosa ne pensate un pollice in su ovviamente se vi è piaciuta questa potenziale bellissima notizia ed iscrivetevi al canale come al solito da Fabrice è tutto un abbraccio grazie a tutti grazie a tutti